Ambiente e politiche sociali, questi i temi al centro dei due atti di indirizzo depositati dai consiglieri comunali di Scelguarezzo, Marco Donati e Valentina Sileno. Il primo, la creazione in città di una dispensa alimentare o una dispensa solidale che possa recuperare i farmaci e gli alimenti invenduti per poterli cedere gratuitamente a chi ne ha più bisogno e non ha la possibilità chiaramente in questo momento di poter accedere ad alcuni servizi o acquisto di alcuni beni. L'altro è un atto di indirizzo sui temi ambientali, la città Plastic Free, l'adesione al protocollo di una grande Ollus, l'associazione Plastic Free Ollus, per avere una città più pulita e che faccia la sinergia con tutte le associazioni che oggi vogliono una città più sostenibile. È un atto molto importante, ci auguriamo che possa essere discusso rapidamente e magari approvato. Il supporto in questo caso è anche normativo. Grazie alla legge Gadda, la legge del 2016, la 166, oggi si può recuperare e cedere con minori rischi. Benissimo, perché non farlo costruendo una filiera che coinvolga già tanti soggetti che in questo momento si adoperano per tutto questo, ma per indirizzarli verso realmente chi ne ha più bisogno e soprattutto produrre anche meno rifiuti. È un momento nel quale il cibo non si può sprecare e soprattutto è un momento in cui le persone hanno estrema necessità di ricevere un sostegno che può essere fatto senza costi aggiuntivi da parte dell'amministrazione. Infine, in occasione della giornata mondiale della terra, giovedì 22 aprile alle 21, Scelguarezzo ha organizzato un appuntamento online aperto a tutta la cittadinanza dal titolo Arezzo Green. È un'occasione pubblica, si può intervenire attraverso una diretta sulla nostra pagina di Facebook alle ore 21, la diretta su Scelguarezzo e le persone possono anche fare domande e interloquire per una città migliore, più pulita e che guarda al futuro.